Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Nonostante le persone a lui care, anche nell'ambiente dell'atletica italiana, conoscessero quanto fossero difficili gli ultimi giorni la conferma della sua scomparsa ha colto chiunque avesse avuto modo di conoscere Andrea Barberi e di ammirare le sue qualità agonistiche ha suscitato una tristezza immensa. A soli 44 anni, si è spento a causa di una malattia spietata uno dei principali protagonisti quattrocentisti della storia azzurra, primatista italiano del giro di pista per 10 anni tra il 2006 e il 2006 di. Andrea è stato tanto, moltissimo anche per lo sport, per la sua atletica che ha onorato difendendo un risultato divenuto storico. Era nato a Tivoli, alle porte di Roma, dove aveva incontrato le persone che avevano intravisto in lui quelle caratteristiche che poi ha mantenuto in pista. All'atletica era arrivato grazie all'ex marciatore Riccardo Pisani che, come tecnico, lo aveva accompagnato verso una buona carriera internazionale, nella quale si ricordano soprattutto il quinto posto agli europei di Göteborg 2006 e la quinta posizione agli europei indoor di Birmingham 2007. Forse il suo anno di grazia, però, è coinciso con i meeting di Rieti del 2006 quando riuscì a sfilare il record italiano a Mauro Zuliani dopo ben 25 anni correndo in 45.19. Nessuno ha vinto tanti titoli italiani nei 400 metri, lotto consecutivi all'aperto dal 2001, due al coperto, e per 25 volte ha indossato la maglia della nazionale, anche in tre edizioni dei mondiali. Questi sono i risultati sulla pista che ha amato e rispettato, dedicando la sua vita allo sport e all'atletica, una disciplina nobilissima ma spesso non sempre grata. Almeno prima che si evidenziassero i risultati di un lungo processo di costruzione dell'attuale primato assoluto degli azzurri, come avvenuto per Gianmarco Tamberi o di Marcel Jacobs e della staffetta d'oro che alle Olimpiadi di Tokyo ha conquistato praticamente tutto. La conferma della sua morte è arrivata poco fa, attraverso una nota sentita, emozionata della Fidel che lo ha ricordato con estremo affetto, soprattutto per quanto dimostrato da uomo, ancora più che da atleta, in questo percorso. A piangerlo è tutta l'atletica italiana e il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle che lo ha accolto a 19 anni come atleta e in seguito come componente della struttura tecnica, apprezzandone la passione e la forza, le stesse qualità con cui ha affrontato la malattia. Alla famiglia di Andrea Barberi vanno le più sentite condoglianze del presidente della Fidel Stefano May e del Consiglio federale, si legge nel comunicato ufficiale. Non perderti nuovi video.